Divide la sentenza della Corte Europea per i diritti dell'uomo che ha riconosciuto come trattamento inumano, degradante, quello inflitto dall'Italia a Bernardo Provenzano. Il boss rimase in regime di carcere duro fino alla morte. Per i giudici di Strasburgo, negli ultimi quattro mesi venne violato il diritto di non essere sottoposto a trattamenti degradanti. Se i giudici da un lato hanno condannato l'atteggiamento dell'Italia, dall'altro lato hanno affermato che la decisione di continuare la detenzione di Provenzano non ha leso i suoi diritti. Provenzano, lo ricordiamo, morì il 13 luglio del 2016, mentre era detenuto a regime di 41 bis a Milano, nell'ospedale San Paolo. Il decesso arrivò dopo un lungo periodo di malattia, una sentenza che, dicevamo, divide anche a Catania. Una tirata d'orecchia all'Italia perché l'umanità deve essere il primo obiettivo, il primo presidio della giustizia. Come si può applicare il 41 bis a una persona ormai vecchia, malata, pressoché morente? Lo capirebbe anche un bambino. C'era bisogno di questo intervento della Corte Europea, evidentemente. Da poco mi pare che c'è stata anche una sentenza che riguardava il diritto di poter cucinare. Insomma, questo non c'entra niente con la lotta alla mafia, non c'entra assolutamente niente. Lo Stato deve esercitare il suo potere di punizione, ma sempre non travalicando i limiti della coscienza. Se questo è il carcere, il carcere serve per punire, non è vero che serve solo per rieducare, cosa ci deve rieducare in un vecchio. Ma quando tu stai punendo un vecchio, devi tener conto delle sue condizioni. La sentenza della Corte Europea di Diritti Umani ci lascia molto per pressi. Il nostro leader, ieri Matteo Salvini, è intervenuto ribadendo l'inutilità di organi come questo che assumono posizioni che non sono condivise dagli italiani. Noi invece esprimiamo solidarietà a tutte le vittime della mafia. Su Via dei Giorgofili c'è ancora chi aspetta il risarcimento d'anni. Se soltanto pensiamo che adesso, a seguito di questa sentenza, la famiglia Provenzano possa in qualche modo chiedere il risarcimento d'anni, questo fa venire i brividi. Mentre dall'altra parte sono famiglie che hanno avuto vittime della mafia, che ancora oggi sono alle prese con processi che non finiscono mai. Io ricordo che a Firenze morirono anche bambini nella strage che doveva dare un segnale sul 41bis. Questo è un boss che non si è mai pentito. Quindi non capisco per quale motivo dovremmo dimostrare umanità a noi nei confronti di uno che è stato assolutamente disumano.